Un posto al sole Trame dal 28 agosto all'1 grado settembre 2017 Trame settimanali dal 28 agosto all'1 grado settembre 2017 della Sop Made in Italy Un posto al sole. Ecco cosa avverrà a Palazzo Palladini situato nella bella Posillippo. Franco e Angela rientrano a Napoli e per loro si avvicina l'inevitabile momento del confronto. Marina intanto sente molta nostalgia di Matteo ma lui si è preso un po' di tempo per riflettere sul loro rapporto. A ritorno dalle vacanze Angela e Franco arrivano alla resa dei conti. Marina riceve una visita ai cantieri che darà una svolta alla sua vita amorosa. Elena si lamenta con Andrea dei suoi problemi economici. Roberto cerca di attuare un nuovo piano per far allontanare Matteo e Marina. Arianna propone ad Andrea di assumere la gestione del caffè Vulcano. L'incontro casuale di Patrizio con la sua ex fidanzata ansia fa arrabbiare Rossella. Nico decide di dichiararsi a Susanna avrà una brutta sorpresa. Mentre Angela e Franco sembrano allontanarsi sempre di più, lui riceve da Don Peppino una richiesta inaspettata. Rossella è sempre più gelosa di Patrizio. Franco sceglie di stare vicino a Peppino e Luisa nel momento in cui sta per scattare la trappola della polizia contro l'usuraio. Nico è costretto a fare buon viso e cattivo gioco davanti a Susanna che si è rimessa con il suo fidanzato storico. Ciao!